Oggi è il giorno più importante della mia vita, sto per giocare a Goat Simulator. Lo sapete cos'è? Praticamente è GTA ma il protagonista è una capra. Sì, ho appena descritto il gioco migliore mai fatto con poche parole. Tutto il divertimento di GTA ma sei una capra. Giochiamo, che è meglio. Allora, ecco un'altra capra. Una capra amica. Ma puoi dare testate? Sì. Ma è una potenza questa capra. Ma fai i punti se rotoli. Non lo so. Aspetta, non do la pietre. Ma salta sopra con l'affare. Wow. No. Guarda qua. Oh. Oh. Guardalo. La lingua è sempre fuori. Guardalo. La lingua è sempre fuori. Guarda qua. 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 ma se vittima inizia oh no ah zoom in ah ok Un po' più vicino, un po' così. Oh, entra in casa. Puoi, devo saltarci dentro. Aspetta, aspetta. È incredibile. Vai! Ma la lingua come si usa? No, ma la vediamo. Non entra in casa. Però hai rotto qualcosa. Vediamo la lingua. No, attenzione. Ma questo... Ma su tutto si salta? No, ma te la sei. Allora, aspetta. Come si usa la lingua? Ok. Tongo. Aspetta, allora mettiamo dentro. Facciamo una cosa da mania. Oh! Ahia, ahia. Che bello. Ma... Lei, guarda, è impassibile. Ho rovinato la loro scena. Guarda lui. Ma... Oh! Bello. Guarda quella si sta tenendo la ruota, dai. Beh, un colpo a quella. Oh, entrata nel muro. Guarda che va. Oh mio Dio. Guardala. Ma che fa? Aspetta, guardala. Oh, ha il collo. Ma lui dove è finito? Lei ormai sta danzando. Oh, il collo. Ma è bellissimo. Si sta pulendo. Ma che fa? Voglio prendere questa signora. Leccalo. No, hai preso una forchetta. Oh, no. L'ho preso. L'hai preso per il pisello. Guarda, guarda. Portalo fuori. Si, lo portiamo fuori. Stai sul tappettino e salta con lui. Si, salta con lui. Non ci sto credendo! Guarda. Aspetta, metti il rallenty. Guarda. Il migliore amico dell'uomo. Rifallo. E' la capra. Vai. Vai. Ma lo lascia all'improvviso. Rallenty. Ma lì c'è un sacco di gente, Fran. Piano, piano. Oh, strano. Oh, strano. Erano dei manifestanti. E tu sei la legge. Guarda lì. Che fanno? Pregano. Guarda com'è felice. dove c'è stata? Oh, no. L'abbiamo aperto. È male. No, è male. Falza all'arco. Oh, fai scoppiare. E scoppia secondo te. Si. Scoppia. Guarda. Dove sei? Cioè questa capra si ritrova in punti sconosciuti. Ma è immortale quindi, ho quanto capito. Mi sa di sì, dopo l'esplosione della... Fisicamente. Fisicamente. Oh. Fisse come ha fregato, ragazzi. Si. Ha detto... Oh. Ehi. Mi ha dato scatti. Au. Oh. Cos'hai preso? Un altro è stato. Oh, oh. Ma lo sono... Lo sono sfiorato. Vai. Oh. Vai, 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 vai. Oh. Oh. Un uomo. Oh. Cos'è? Cos'è? Questo sta riflettendo. Oh. Oh. Ma te questo... Ma... Guarda come contento sgambetta. Gli potremmo dire... Vuoi chiedere... Si. Si. Allora, magari... Forse la sa. La sa? Prova a chiedere. No, no. Scusi. Non gliel'ho neanche chiesto. Guarda. Non gliel'ho neanche chiesto. Guarda. Non ti sei trattenuto. Sta venendo dritto verso di me. Ma se mi vieni in faccia è incredibile. Vai, vai. Stai pronto. Oh. Su. Ce l'ho fatta. Incredibile. Ma ci vedo. Oddio. Dove va? Non lo so. Stai su. Ma dobbiamo entrare nel robot. Ma che ci sono riuscito al primo tentativo. Fantastico. Però ho tantissimo voglia di usare la lingua. E di lasciarmi cadere. No. Aspetta. Ma... Lì si sta all'uccidere. No. Lì c'è una capra sacrificio. Si. Si. Guarda vedi. C'è una capra là in mezzo. Ci sono. Guarda. Stava diventando un bruco. Stava facendo il bozzo. Ma è la mia amica. Guarda ci sono pezzi di capra. Guarda che... Ma non so. Teschi di capra. Capra. Che gano. Oh. Un combattimento. E' combattimento fra capre. Non ci credo. Ammazzala. Sto vincendo sempre. Ammazzala. Ma è cattiva. Ah lo devo far uscire. Ok. Round 3. Attento arrivano capre come... No capra di dio quella è. Quella è capra di dio. Capra albina. Vai. Oh. Oddio è cattiva. Me l'ha mischiato. Capra zombie. Mi ha mischiato lo... Sei un badass. Sennò... Ma guarda come sono muscoloso. Sei una capra campione. Guarda là. Ma è quella... Sta bene signora Rossi. Ah è quella che era... La signora Rossi. Si è di nuovo incasinata. Ma te sto volando. Wow. Si esplode. E' Natale. E' Natale. E' Natale. No. Ma non puoi caprare di più. Uuuuh. Però la lingua. No. No. Non dirmi che la mucca pazza non sa salire le scarto. No. Come no. È come come frulla creare! Stai bene, Crapra? c'è gianfranco c'è gianfranco c'è gianfranco c'è gianfranco che medita la vita è una merda il vero giano piano c'è anche la vita è una merda ma non c'è un modo per allungare la lingua fino a gianfranco si è suicidato non ce la faceva più canta il tuo dolore ho un altro gianfranco una lingua demoniata cianfran poi si suicida pure qui no non suicidarti non suicidarti no poi così di scatto si è suicidato la capra che fa suicidare la gente va dai versi guarda un altro morto ma che gioco è questo c'è anche una statuetta oh no ti ha spinto il robot non è così amichevole come dice la tua faccina vabbè pazienza evviva facciamo esplodere tutta la città e caos lui è rimasto in guarda la gambe guarda legato guarda quello con le indietro quello le ma la gara il vespera il rosso ma capri di salta capri di satana come immaginavo da una testata al cuore ma te sta diventando satana non vedo bene nooo ma te e mo che puoi portarlo in sacrificio puoi portarlo in sacrificio puoi portarlo in sacrificio ti e li mangia non si stacca ecco guardi i piedi è che fosse stato solo negli oh 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 ma te oh è successo che vuoi portarlo guardi i piedi è quello è il fatto della capra effetto di salta effetto la capra di salta la famo muovere in modo buffo All'infinito! Oddio! Sto via le misure! 5 metri di stella satanica! Presa! Oh! Ma te! Non esce! Per la lingua, l'ho preso per la lingua! L'hai preso per la lingua? Si! E tira! Sa tirare! E' ingazzatissima quella lingua! Guarda la lingua! E' infinita! E' infinita dici? Si colleghi due lingue di capra! Ecco! Arriva! Guarda! Guarda! Un bacio alla francese molto volgare! Sta soffrendo! Un violentatore! Devi fargliela pagare! Ma gli salta addosso? Si! Oh! Ho sbagliato salto! Vabbè! Non ti hanno notato! Ma non è una ragazza o no? Via! Via da lei! Lascialo stare! Guarda dove è a terra! Oh! A posto! La ragazza? Piange! Non ti preoccupare! E' tutto a posto! So come farla stare meglio! La lingua nociva! Lingua nociva! Lingua nociva! Stiamo liberi a dire più? Si! Guarda il braccio! Che cosa la batte questo gioco? Guarda il braccio! Vi siete piantati! Non so uscire! Vi siete incostrati a te! Continua a fare il record! Siamo riusciti a ucciderlo! No! No! Non si muove! Continua a leccare a terra! Come una pazza! Ma quella è una gamba! Si! Non esce più pure lei! Lei ve lo struzzo! Lei sta cercando loro! Ma a te non va! Allora per oggi basta giocare con le capre! E tra l'altro io tanto tempo fa ho fatto un video guardate qui che ci sono! Capre non le ho messe ora ve lo giuro! Allora io vorrei rigiocare assolutamente al gioco della capra e ho visto che ci sono delle altre opzioni tipo capra regina magari quelle le vediamo oppure ho letto anche capra dinosauro italiano c'è scritto proprio così non lo so ci vediamo al prossimo gameplay!